Il testimone di Capitale al Quadrato, dall'1 al 7 luglio, passa al comune di Cogli al Metauro, che in occasione del progetto 50x50 di Pesaro 2024 darà vita al suo programma intitolato Borghi della Qualità. Sicuramente una settimana molto impegnativa innanzitutto, ma soprattutto sicuramente l'arrivo di tante persone nel nostro territorio per i bellissimi eventi e interessanti eventi, anche e soprattutto dal punto di vista culturale, che il gruppo, i miei collaboratori, i quali ringrazio profondamente, hanno messo in piedi durante la preparazione di questo evento. La cosa che mi ha fatto brillare più gli occhi è stata sicuramente l'organizzazione di questa iniziativa, cioè il voler coinvolgere tutti i territori della nostra provincia e quindi valorizzare quelli che sono i nostri territori è quello che più mi ha dato soddisfazione e mi ha dato motivo di orgoglio di far parte di questa provincia, perché avere la sensibilità di consentire a questi territori interni di poter valorizzare quelle che sono le proprie bellezze, i propri territori, le proprie tipicità enogastronomiche, che tra l'altro noi ne abbiamo diverse, a partire dall'olio dopo Cartoceto, alla Casciotta di Urbino, che è del nostro territorio, così come la famosa per Angelica, dà la possibilità di farsi conoscere e di mostrarsi fuori dalle mura del nostro territorio. Un programma, quello presentato da Colle al Metauro, che spazia su più fronti, dalla letteratura alla musica, passando per all'enogastronomia e illustri ospiti come Galimberti. Abbiamo proposto un programma molto variegato, che occupa tutti i giorni della settimana con diversi eventi. Abbiamo delle presentazioni di libri, di associazioni, autori locali e anche una produzione proprio nostra, diciamo finanziata dal Comune di Colle al Metauro. Abbiamo degli spettacoli teatrali e conferenze di esperti. Nel caso specifico avremo la conferenza di Umberto Galimberti, che è un grande ospite e sarà uno degli eventi principali della settimana. Poi avremo un evento che per noi è una grande tradizione, che è quello di Saltarua, il Festival dell'Alta Musica, che si svolge nel municipio di Saltara. Ed è alla 22esima edizione. Ed è, diciamo, l'evento principale di questa settimana, della cultura che caratterizza Colle al Metauro. Per questa settimana inoltre abbiamo delle collaborazioni con dei privati, con dei ristoratori locali e anche con i bar e alcune attività che partecipano all'iniziativa Cosa c'è DOP promossa da Pesaro Capitale della Cultura. Inoltre, per finire, avremo un importante concerto che mette in relazione il legame che c'era tra De Andrè e il poeta Mario Lussi, che ha delle origini del nostro territorio, di Montemaggior. Anche questo è un evento su cui puntiamo tanto e siamo sicuri che possa dare un grande valore aggiunto al programma della nostra settimana. Un gusto di gelato realizzato e dedicato a questa settimana da Capitale. Grazie. Grazie.